Una storia lunga 125 anni, quella di Arezzo e Banca Etruria finita, lo sappiamo tutti, nel peggiore dei modi con il crack dell'Istituto Bancario Aretino. Ma la storia non si cancella e così fino al 3 novembre, nell'atrio d'onore del Palazzo della Provincia di Arezzo, sarà possibile rivivere parte di quella storia con una mostra dedicata alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. La mostra, organizzata da alcuni ex dipendenti e patrocinata dalla provincia di Arezzo, all'obiettivo di celebrare l'eredità storica della Banca attraverso cimeli, documenti, testimonianze che raccontano la sua presenza nella vita di tante famiglie e imprese. Nasce tutto dalla voglia di ridare un nome buono alla Banca che aveva un po' perso con le ultime società, prima che diventasse una bad bank. e questo serve a ridare il lustro alla Banca che poi per circa 130 anni ha fatto il bene di queste città. Un evento che ha anche uno scopo benefico. Le eventuali donazioni raccolte durante la mostra saranno destinate all'acquisto di una poltrona per il reparto di Alisi di Arezzo. Unendo le due cose sicuramente il nome della Banca beneficirà di questa operazione. Spero di veramente.